Ricciardo Artusi, dell'ufficio Cultura della città metropolitana di Firenze, lavoro al Palazzo Medici Riccardi e mi occupo della parte museale. Ecco il motivo della mia presenza per questo evento che ritengo molto interessante. Ho seguito i vari interventi dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della parte progettuale e trovo che queste sono soluzioni che possono essere utilizzate in ambienti come i nostri e possono veramente dare un contributo al visitatore. Spero di poter farne tesoro di questa esperienza e portarla presso il museo di Palazzo Medici. Posso dire che quello che mi ha colpito maggiormente è stato l'ultimo intervento, questo di Mick, questo è una forza della natura e mi piacerebbe portarlo al Palazzo Medici per poter utilizzare e sfruttare la sua esperienza sicuramente. Questo ovviamente non dipende da me, io porterò il messaggio, poi vedremo come poterlo fare. Certamente risorse come queste dovrebbero essere impegnate sicuramente.